Benvenuti sul canale YouTube di Milano Historic Cars Club e Young Timer Club Milano, il club dedicato agli appassionati di veicoli storici e young timer. Prima di iniziare non dimenticate di iscrivervi al nostro canale YouTube e di mettere un clic sulla campanellina per ricevere le notifiche di tutti i nostri video. Oggi vi parleremo di una vettura assolutamente iconica, Lancia Aurelia B24 convertibile del 1959. La storia della nostra Lancia Aurelia parte negli anni 50, quando si rafforza il binomio tra eleganza e sportività che rende la casa torinese famosa in tutto il mondo. Lo stile Lancia è declinato in una vettura memorabile come l'Aurelia B20 GT, una berlinetta dalla meccanica raffinata e potente, dalla quale deriva la nostra splendida Aurelia B24 convertibile. La storia della nostra Lancia Aurelia è declinato in una vettura Aurelia B246. La storia della nostra Lancia Aurelia è declinato in una vettura la versione scoperta è in produzione dal 1955 al 1958 e rimarrà in listino fino alla primavera del 1959 le versioni o serie saranno tre spider convertibile america e convertibile con la denominazione b24 o b24s dove la s sta a indicare la guida a sinistra nel 1954 pininfarina che aveva già contribuito a definire le linee dell'aurelia gran turismo veste la meccanica della b20 creando una vettura scoperta altrettanto elegante che riscosse subito un grande successo anche nel mercato oltreoceano accorciando il telaio di aurelia b20 e con poche modifiche al sei cilindri da 2451 centimetri cubici prende così vita l'aurelia b24 una delle spider più belle di sempre questa sofisticata convertibile è caratterizzata da una lunga presa d'aria sul cofano motore e dai i paraurti che sull'anteriore contribuiscono esaltare l'iconica calandra a scudo emblema per eccellenza della lancia tutta l'impostazione della vettura è assolutamente originale l'abitacolo si innesta praticamente tra il lungo baule posteriore e il cofano motore ma aurelia b24 si distingue anche per le porte basse che lasciano spazio ad un alto sottoporta impreziosito da una banda cronata aurelia monta un motore a sei cilindri il primo motore sei cilindri mai costruito io c'è e si tratta appunto di un 6 cilindri av di 2451 centimetri cubici con valvole in testa alimentato da un carburatore Weber ed è in grado di erogare la potenza di 118 hp misurato secondo lo standard sai essere al volante di una regina si può con lancia Aurelia oggi veramente ragazzi i commenti si sprecano scrivete cosa ne pensate nei commenti qui sotto Aurelia convertibile la signora di tutte le lancia per non dire di tutte le automobili questo è veramente da guidare dovreste sentire provare la rotondità di questo motore è incredibile morbido fluido pieno una vera lancia ecco come costruivamo le automobili in Italia e perché siamo diventati una leggenda nel mondo dell'automobilismo ecco io una mille miglia con una macchina così me la farei proprio volentieri la carrozzeria è a scocca portante le sospensioni anteriori sono a ruote indipendenti mentre la sospensione posteriore è a ruote semi indipendente con sistema de Dion la trasmissione con trazione alle ruote posteriori è gestita da un cambio a 4 rapporti più retromarcia la lunghezza è di 423 cm per una larghezza di 155 cm il peso totale in ordine di marcia è di 1265 kg questo poderoso 6 cilindri è in grado di spingere la nostra Aurelia B24 convertibile alla velocità massima di oltre 175 km d'aria questa versione di Aurelia B24S convertibile è stata prodotta per un totale di 371 esemplari all'interno nel cruscotto si innestano tre strumenti circolari con il grande tachimetro al centro proprio sotto il piantone dello sterzo il bel volante in alluminio tre razze con corona in legno impreziosisce il tutto Alla prossima Voi Alla prossima Eleganza, sportività, prestazioni e competizioni. Queste sono le caratteristiche della migliore tradizione Lancia e Lancia Aurelia le incarna perfettamente. Lancia Aurelia ha partecipato con le sue varie versioni, le berlina, le coupe B20, le B20 Zagato e le B24, a molte competizioni automobilistiche come Targa Florio, Mille Miglia, Rally di Monte Carlo, fino dall'anno della sua prima presentazione nel 1950, ottenendo parecchie affermazioni a livello nazionale e internazionale. In campo nazionale ha consentito a parecchi piloti di vincere almeno otto campionati automobilistici italiani. Molti appassionati ritengono l'Aurelia l'auto più bella mai costruita e di sicuro è un'icona della dolce vita e del design italiano. Memorabile è la sua presenza anche nel film Il sorpasso di Dino Risi del 1962. Oggi vi abbiamo presentato una Lancia Aurelia B24 convertibile del 1959, una delle automobili più belle del mondo. Questo è il canale YouTube di Milano Historiche Cars Club e Young Timer Club Milano. Siamo un club di appassionati di veicoli storici e young timer e vogliamo contagiarvi con la nostra passione. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, cliccate sulla campanellina per ricevere la notifica su tutte le nostre produzioni e seguiteci sul nostro sito internet che è milanohistorichecarsclub.it Ci vediamo al prossimo video!